Musica Buongiorno e bentrovati a mattino 6, oggi giovedì 1 dicembre. Iniziamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani regionali dal quotidiano dell'Abruzzo il centro edizione dedicata a Pescara. Vediamo in apertura alluvioni, ecco i soldi per i cittadini, la regione dà l'ok ai risarcimento, l'elenco comune per comune. E poi in centro pagina la fotonotizia, ospedali e non solo, dai volontari di Pescara un messaggio di ottimismo, clown terapia, vivere con gioia. De Nicola Carichieti, 26 nei guai, politica e banche, la procura chiede di processare il sistema. Nelle cronache investito un'ottantenne in bici e grave in via Tirino, gli pignorano i conti e perde la figlia malata e poi discarica e veleni bussi pressing del Ministero. All'interno vediamo economia al lavoro statale intesa sull'aumento di 85 euro e poi la sentenza a Banca Etruria assolti i primi tre imputati. Nel taglio alto verso il referendum Abruzzo a confronto di Pangrazio perché sì, Pagano perché no. E poi l'intervista a Renzi, se fossero elezioni politiche perderei, dopo il voto Salvini, il premier, farà saltare il banco. Nel taglio basso invece Coppa Italia del fino eliminato dall'Atalanta per 3 a 0, disastro Pescara, Oddo Furioso, l'allenatore mi sono vergognato, qualcuno pagherà. Ed ora l'edizione dedicata alla provincia di Chieti, stessa apertura, stessa fotonotizia in centro pagina. Nelle cronache invece a Passo Lanciano il campo da sci devastato dai vandali in jeep. E ancora la Sasi chiede il dissequestro di sette depuratori ad Atessa Sevel, persi 2.300 furgoni per un guasto. Vediamo nel taglio basso, Chieti detenuti cantano con gli alunni, il maestro Zappone dirige il concerto domani in cattedrale. E a vasto gli avvocati il tribunale di Chieti è lontano. Edizione dedicata alla provincia di Teramo, vediamo nelle cronache il crack del basket, reati fiscali, archiviazione per Antonetti. E poi il terremoto sfollati, c'è chi può rientrare in casa propria. Mociano Ponte resterà incompiuto altri due anni. Nel taglio basso Roseto arrivano gli sconti sulla Tari e il consiglio vara anche il pagamento in quattro rate. Mentre domani in città il Caffè Grande Italia riapre con 30 assunzioni. Edizione dedicata alla provincia di L'Aquila, vediamo nelle cronache post-sisma, case equivalenti, esodo legalizzato per L'Aquila. Ad Avezzano di Pangrazio si ricandida Cascere lo sfida, a Sulmona, a Senteisti, al Comune, ispettori esterni. Nel taglio basso L'Aquila, casa squillo con il tricolore, bandiera usata per segnalare l'appartamento ai clienti. E poi il calcio di serie D, L'Aquila si rafforza con un nuovo dirigente. Vediamo ora la prima pagina del messaggero dedicata all'Abruzzo. Malavita trovati gli arsenali a Pescara secondo Blitz in pochi giorni a Rancitelli, fucile e pistola in un vano ascensore. Le indagini dei carabinieri spaziano dalla pista delle rapine all'eredità del clan Battestini. Vedremo poi il contributo video più avanti. Intanto gang scatenate tra gli articoli Banda, Del Buco, colpo grosso a Chieti. E poi in spalla il caso Ryanair, spot turistici sugli aerei. Prima sentenza sì ai fondi UE. Il segnale tricolore davanti alla casa squillo per l'ok ai clienti. Grazie all'Aquila, il drappo esposto sul balcone quando le prostitute erano disponibili. E la stagione bianca, canoni in azione, si scia all'Immacolata. Roccaraso vuol aprire le piste per il ponte. Sanità, chiodi verso la prescrizione. Ed ora il quotidiano della provincia di Teramo. La città in apertura Teramo-Basca e Tantonetti ne esce pulito. Niente fatture false e operazioni inesistenti. Il PM chiede e ottiene l'archiviazione dell'inchiesta. In centropagina Mosciano, monumento all'inutilità. Così titola la fotonotizia. Il cavalcavia sarà completato solo nel 2018. In breve Pietracamela. I prati puntano sulle famiglie e gli studenti. Poi allarme in provincia. I comuni non pagano sociale a rischio. E' presa la banda catanese, le mogli al mare e i mariti a rubare. In su. Roseto cambia le rate dei latari. Fissate quattro scadenze annuali per evitare accavallamenti. E' arrestato dalla polizia, furto d'auto. Il maniaco colpisce. Ancora Lega Pro. Teramo calcio. Calore. Il dodicesimo. Che non tradisce mai. Ed ora vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalla Repubblica. La scelta di Prodi. Sì per le riforme. Battaglia finale sul voto all'estero. Così il titolo in apertura. Renzi. Il no al referendum è per la casta. Siglato l'accordo sugli statali. 85 euro di aumento. Il retroscena. La scommessa sul 3%. In centropagina invece. Saronno. 35 le morti sospette. In ospedale si allarga l'inchiesta su medico e infermiera. Insabbiata. Una indagine interna. Il racconto. Il titolo. L'uomo che legge le tragedie greche. E poi il caso. Vediamo. Banca Etruria. Soluzione per i manager del crack. La trincea di Banca Italia. E poi ancora il risparmio. E le procure. Nel taglio basso. Mia figlia seduta dalle bugie dell'Isis. La storia di un padre tedesco. E poi il disastro aereo in Colombia. L'ultima frase del pilota. Il carburante è finito. Il Corriere della Sera. In apertura. L'intervista. Russia e USA. Ora si riparte. I piani di Mosca. Milionari nella squadra di Trump. Rivoluzione sulle tasse. Il ministro degli esteri. Superiamo le conseguenze distruttive. Delle azioni di Obama. E poi ancora vediamo tra i titoli. Così il mondo liberale può andare in frantumi. E ancora la scelta dei bonus statali. L'accordo con gli aumenti e il salvagente per gli 80 euro. Il caso referendum. Il sì di Prodi. Ma riforma poco chiara. La UE è pronta a finanziare la ricostruzione per il sisma. Il tesoro. Il neoministro vuole una svolta alla rega. E poi ancora in breve vediamo Laura Boldrini. Basta odio in politica. E Giovanni Toti. È un testo invotabile. E nel taglio basso invece vediamo. So degli amanti killer. Voglio l'assunzione. La dottoressa minacciò di far scoppiare un casino. E l'ospedale di Saronno bandì il concorso. Il messaggero. Statali intesa su aumenti e premi. Raggiunto l'accordo governo sindacati sul contratto. Incrementi medi di 85 euro al mese. Incentivi legali. A merito e presenze. Stop ai precari. Renzi. Dopo sette anni. È la volta buona. E poi. L'annuncio. Appunto. Nell'incontro. Per superare il conflitto di interessi. Trump lascerò le mie aziende. Ha detto. Per dedicarmi. Alla casa bianca. E poi il caso Banca Etruria. La soluzione degli ex vertici. Quindi. Tutti assolti. La sentenza ad Arezzo. E poi la scelta di Prodi. Riforma poco chiara. Ma io voto per il sì. Passiamo al giornale. Spreco senza fine. Così l'apertura. Renzi prende l'elisoccorso. Per raccattare gli ultimi sì. Il premier ci ricasca. Con i voli blu. E per non perdere. Regala 85 euro. Di aumento agli statali. Berlusconi. Se vince è meglio espatriare. Ha detto. Medici killer. Amanti acidi. L'era dei mostri. Da Tinello. E poi il crack di Etruria. Subito assolti. Gli ex vertici. Mentre vediamo ancora. Il viminale. Fa liberare il mullah iadista. Da ritirata la richiesta di estradizione. E poi una. La fotonotizia. Per quanto riguarda il sito. E quindi l'inchiesta del sito. Di Beppe Grillo. Così il titolo. Grillo. È il capo mondiale. Della fabbrica. Delle bufale. Nel taglio basso. Care banche. I clienti vanno perseguitati. Così e poi l'ultima idea contro i topi. Esche tipiche. Ancora voi editori. Siete carogne. Firmato. Selin. Il tempo. Il quotidiano indipendente. Vediamo nel taglio alto sul referendum pro di Mette nei guai Renzi. Voterò sì. Scontro sui nuovi senatori. Il premier li sceglieranno i cittadini. Ma la norma non c'è. E poi il fantasma delle opere. Così il titolo della fotonotizia. Strade, ponti, ferrovie. Roma e ferma. Le accuse dei costruttori alla Raggi. Il sì poi alla proposta del governo. Il colpo di Renzi agli statali. Aumento di 85 euro al mese. Salvini accelera. Ora basta. A febbraio facciamo le primarie. Dopo il sondaggio di tempo è libero. E sono 11 le morte sospette in Corsia per quanto riguarda il caso di Saronno. Le nuove intercettazioni sugli amanti diabolici. Così dicono. Vediamo ora la stampa. Referendum. Il sì sofferto di Prodi. Riforma non bella ma doveroso sostenerla. Ha detto Statali. Firmato il contratto. 85 euro. Lordi, Renzi. Grazie. Ma l'ex premier non risparmia le critiche. Matteo dimentica la lezione dell'ulivo. Ho deciso correndo. E poi vediamo la fotonotizia. Putin un provocatore. I due fronti invece sul referendum. Sul treno grillino che corre per il no. Combattiamo a mani nude. La task force che insegue il sì. Il traguardo è molto vicino. Saronno poi inchiesta sull'ospedale della coppia diabolica. Il dossier interno caduto nel vuoto contro l'infermiera e il medico. Sette denunce. Tutti sapevano cosa stavano facendo. I verbali. I farmaci nel pesto. La terapia per uccidere il marito. E vediamo inchiesta il piano italiano per salvare le nuove schiave. E vediamo le scosse in Emilia. La terra trema e purtroppo non si fermerà. Passiamo ad avvenire. Il fatto in apertura cimitero di guerra. ONU civili allo stremo ad Aleppo. Ora una tregua alla Russia dopo i raid per più richieste le nostre armi. Città illuminate contro il buio delle esecuzioni. Così il titolo della fotonotizia in centropagina. E poi il contratto statale. Arriva l'intesa e parte da 85 euro. Il fatto quotidiano dietro la propaganda. Le quattro Italie tradite da Renzi pronte a punirlo col referendum terremotati vittime dell'ILVA, delle banche e delle tv. Il premier toglie 50 milioni per la sanità a Taranto. Ora offre 1,3 miliardi. Deriva frutto di un accordo che ancora non c'è. Soldi che andranno alla fabbrica e non alla città. E nelle tende attorno a Norcia, devastata dal sisma, gli abitanti sono scoraggiati. Lo stato qui continua a sembrare troppo lontano dalle loro sofferenze. Gli spettatori delle tv sono molestati da mesi dall'uomo solo al telecomando. Il premier si è preso un quarto di tutto il tempo dedicato al dibattito elettorale e gli arbitri zitti. Poi Banca Etruria, assolti gli ex vertici. Non c'è stato ostacolo alla vigilanza, ma anche i vigilanti, cioè la Banca d'Italia, non pagheranno. Il conto è arrivato solo ai risparmiatori traditi. Sabrina Ferilli, poi vediamo domani sera, tradiscono la Costituzione come i piazzisti di pentole. Misteri, il PD butta oltre 10 milioni nel sì, non sapremo mai dove li prende. Nel suo bilancio il partito usa la legge che permette di tenere segreti i donatori. E a tre giorni dal voto Prodi cambia verso dal no al sì con riserve. E fanta riforme, i cyborg senatori, la scheda patacca ideata dal premier. Scelte, estradizione mai chiesta. L'Italia fa scarcerare il Norvegia di Lima indiziato di terrorismo. Il gazzettino, vediamo Padova dalla cella, gestiva il traffico di droga in Sicilia. E poi pubblico impiego, abbiamo visto agli statali 85 euro d'aumento. Firmato l'accordo governo sindacati, prevista anche l'introduzione di forme di welfare contrattuale. Rinnovato il contratto dopo sette anni, impegno di 5 miliardi, metà a carico degli enti locali. E la politica, la mossa del Prof che spiazza il fronte dall'Ema Bersani, referendum Prodi, riforma non perfetta, ha detto ma voterò sì. E poi la sentenza su Banca Etruria, assolti quindi tutti i vertici. Una notizia di economia nel taglio basso, Benetton Group in 5 anni, perdite per 280 milioni. E vediamo anche nel taglio basso, ancora coppia gay friuliana diventa papà e mamma di due gemelli. Maternità surrogata in USA, sono sposati da un anno. Libero Italia fuori di testa, così il titolo paralizzati dal referendum. Tutto bloccato, il Parlamento pensa solo al voto ed è deserto, i politici si scannano e la gente non capisce perché. Prodi scende in campo per il sì, ma con una lettera in cui distrugge Renzi, mai visto nulla di così tragicomico. Dopo sette anni di blocco rinnovato il contratto agli statali, 85 euro al mese più benefit. In centropagina la fotovignetta, quattro saltimbanchi in padella. Vespa dirige la danza macabra dei duellanti. E la coppia killer dell'ospedale, tutti sapevano, nessuno diceva. Mentre in spalla, vediamo in barba agli economisti, borsa USA record festeggiato, Trump che taglia le tasse. Passiamo al mattino, vediamo il giallo, da una parte materazzo, ferite, orari e soccorsi. Ecco perché mio padre fu ucciso, la controinchiesta e le denunce dell'ingegnere sgozzato. Il processo invece, dall'altra parte, fortuna, fu spinta giù dal terrazzo. La bambina era viva e cosciente. Le rivelazioni shock del medico legale. La mamma fugge dall'aula. E poi, vediamo la saga dalle vacanze con il nonno alle liti nel palazzo di famiglia. Il commento invece, per quanto riguarda il processo sulla bimba deceduta, quando la crudeltà umana va oltre ogni immaginazione statale. Renzi incassa l'intesa, abbiamo visto rinnovato il contratto dopo sette anni. Referendum pro di voto sì, un dovere dirlo. E poi, vediamo invece una notizia tra gli appuntamenti. La prima al San Carlo, la magia dell'otello migrante. Passiamo alle notizie nel taglio basso. Le idee, Castro, Stalin e quella sinistra cieca. Il banchiere invece, dall'altra parte, taglia tasse di Trump. Ed ora la gazzetta del mezzogiorno. In apertura, Prodi vota sì, Renzi ringrazia, il premier felice, la casta è per il no. D'Alema Duro, la casta è lui. Intesa sul contratto statale, dopo sette anni di stallo, via a 85 euro in più. Vediamo invece nel taglio alto, concluse le indagini della polizia sul delitto a Palese. Pittrice uccisa a Bari per una vendetta. L'albanese è fermato, era stato licenziato dal figlio. Il raddoppio del binario in Molise. Decidiamo noi, il presidente di Laura Frattura. Nessun veto, ma vogliamo decidere noi come realizzarlo, così ha detto nell'intervista. Sanità, si cambia, ecco la Puglia degli ospedali. Ancora la battaglia infinita tra Emiliano e Premier. Sull'Ilva, i fondi per la salute. Poi Saronno, vediamo, praticamente l'infermiera dava un cocktail mortale di farmaci. Il medico uccideva, ma tutti tacevano. E' salvata dal fruttivendolo neonata lasciata al mercato ed ancora cittadini lucani ovunque, tranne che in Basilicata, il paradosso di una terra popolata dai migranti. Il secolo XIX, statali intesa sul contratto, così in apertura, firma di governo e sindacati, quindi aumento medio di 85 euro. Poi la fotonotizia a tutti gli intoppi del nodo ferroviario. Siamo a Genova e amanti killer a Saronno, inchiesta sull'ospedale. E a Genova, sempre esaurite le liste alle elementari, adesso mancano anche i supplenti. L'unità, pro di vota sì, Berlusconi invece no. Il padre dell'Ulivo si schiera a favore della riforma costituzionale. Renzi, grazie, professore. L'impero delle bufale, ecco come la rete di Grillo diffonde bugie e veleni sul web. E poi il lutto allegro di Cuba che saluta Fidel Castro con questa fotonotizia. Nel taglio basso, lavoratori pubblici dopo sette anni c'è il contratto. Quindi, come abbiamo visto, la verità, crack di Banca Etruria, non paga nessuno. La beffa ai risparmiatori truffati, prima sentenza sul fallimento dell'Istituto. Caro a Renzi e alla Boschi assolti vertici, non hanno ostacolato la vigilanza. Se così dovrebbero saltare teste in Banca Italia, ma non accadrà mai. E poi la fotonotizia, Prodi è finita la commedia di Romano Prodi. Quindi l'uomo dell'euro vota sì. Ancora ora l'Europa ha davvero paura di finire KO. Da Wall Street Journal e Newsweek tutti annunciano il prossimo trionfo dei populisti che sgretorerà l'Unione Europea. Ed ora ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Luca Mennella di InMeteo.net. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6. Continuiamo la nostra rassegna stampa con le pagine interne dei quotidiani regionali. Abbiamo visto la prima pagina dedicata all'Abruzzo dal messaggero che apriva con il blitz a Pescara, a malavita, trovati gli arsenali. Abbiamo visto anche il titolo. Vediamo il contributo video di Paolo Renzetti. Ancora un ritrovamento di armi e munizioni in alcune pertinenze delle palazzine di Via Tavo nel quartiere Rancitelli del ferro di cavallo di Pescara dove già nelle settimane scorse i carabinieri della compagnia adriatica avevano rinvenuto un revolvere delle cartucce. Il materiale è stato posto sotto sequestro e ora verrà analizzato dagli esperti del RIS per risalire ad eventuali impronte. Gli inquirenti sarebbero inoltre questa volta anche sulle tracce di un sospetto. Maggiore Scarponi, ancora un ritrovamento di armi? Ancora una volta in Via Tavo nella zona del ferro di cavallo? Non è stato un ritrovamento casuale? Casuale è difficile perché c'è sempre dietro tanto lavoro sia quando i servizi danno esito positivo come questa volta e come pochi giorni fa sia quando i servizi a volte non danno l'esito positivo. Il nostro obiettivo è quello di monitorare e mettere pressione alle persone che delinquono e andare a tutelare e far sentire la presenza dello Stato, la nostra vicinanza a tutti i residenti onesti, le tante persone che abitano in questi luoghi non sempre facili. Andavate alla ricerca probabilmente di droga, avete trovato delle armi ma questa volta a differenza di due settimane fa quando avevate rinvenuto anche altre armi e munizioni ci sarebbe anche un sospettato? Allora, al momento non abbiamo un nome, siamo convinti di dare un nome e un cognome al proprietario delle armi rinvenute questa volta e delle armi rinvenute pochi giorni fa e stiamo cercando di stringere il cerchio ma è ancora presto per farlo. Si può parlare di allarme sociale alla luce del ritrovamento di poche ore fa? No, non è allarme e a mio avviso queste due operazioni testimoniano la capacità operativa dell'arma dei carabinieri di togliere degli strumenti di morte. All'interno ancora vediamo primo ponte sugli sci, cannon in azione, piste già imbiancate, Roccaraso vuole aprire gli impianti per l'Immacolata, 80 chilometri di tracciati ma deve durare il freddo. E' ancora la stagione sulla neve, anche sul Gran Sasso e a Campo Felice si spara, prevendita poco reattiva ma si spera nelle molte innovazioni, comprese le nozze in quota. Sanità, terremoto, a giugno il processo, cliniche per Gianni Chiodi in vista alla prescrizione, emergenze, danni per il maltempo 2015, mezzo milione alla Marsica. Pagina dedicata a Pescara, in apertura abbiamo visto quindi le armi della Mala, Rancitelli spunta un secondo arsenale e poi il precedente, la prima sorpresa risale all'11 di novembre. Il rebus, le due tracce che portano l'eredità della banda Battestini, una buca a lungo, il vomano, il furgone del bandito, misso, il delitto ceci, le indagini ripartono dai misteri insoluti. Ancora nel Pescarese, la rinascita venduto Guerino, subito il rilancio, una cordata guidata dalla D, Florido Corneli, ha rilevato da Paglione lo storico locale sulla riviera in centro città, forse ad aprile l'apertura con il nome originale, il gabbiano, previsti un bar, gelateria, un ristorante con uno chef stellato. Il ritorno e la discoteca Megà riapre per Natale, rilevata dal gruppo Aegis, sarà gestita dai titolari del Jumbo. Strade di sangue, travolto in bici da un'auto, anziano grave in ospedale, il drammatico incidente, ieri pomeriggio in via Tirino, 118 e vigili urbani sul posto. La vittima è Paolo Mucci, ottantenne, che pedalava in direzione di San Buceto. In breve vediamo, Diodati promuove il regolamento sul mondo animale, Montesilvano liti e botte ai vicini, poi aggredisce i carabinieri. E in via Tavo, nuovo parco dell'infanzia, simbolo di riscatto sociale, lo ha annunciato l'assessore Laura Di Pietro. E le grandi manovre, tre ex sindaci in cerca di rivincita, il caso Montesilvano si apre con Pasquale Cordo, ma l'ultimo in ordine di tempo ad annunciare il ritorno alla politica attiva. L'ex primo cittadino Gigi di centrodestra aggiunge il suo nome a quelli di Gallerati e Cantagallo, ma non penso a candidature. I restauri Duomo e Santissima Annunziata, 3 milioni per le chiese di Penne. Vediamo ancora compleanno speciale, Simona Azzori e Federico Perrotta sono le star del Festival della Gioia da domani. A domenica la Kermess, organizzata per i dieci anni dell'associazione Will Clown. Notti di note, le grandi hit di Elisa nel concerto pescarese, la cantante al Palasport Papa Giovanni, in programma anche un Erika Moore e Doriana Legge. Pagina dedicata all'Aquila, la difficile ripresa sotto servizi a metà dell'opera, ma c'è l'incognita degli stop. I vertici dell'asse centrale hanno riferito di aver terminato 6 dei 12 chilometri. L'obiettivo è fornire il primo stralcio entro la primavera, ma frattale e scettico. E verso le elezioni, Silveri, mi metto in gioco, città sempre più isolata, ha detto ritorno alla normalità, luci di Natale, lungo corso Federico, la città che rinasce nel taglio basso, il centro storico si riaccende, arrivano nuovi negozi. E poi il caso, la guerra del nuoto, oggi sciopero a verde acqua, di nuovo, quindi sul piede di guerra. La storia, giro di prostituzione nel condominio, bene, i residenti si ribellano, scoperto un appartamento nella zona della villa comunale, le ragazze avevano issato una bandiera italiana come segnale, la lettera denuncia, siamo esasperati dal via vai, anche notturno scatta l'indagine della polizia. A donna, ristrutturazione casello, in trea giudizio per truffa, NAS, chiuso, allevamento abusivo di cinghiali. Ed ancora la polemica, vediamo noi parcheggi a pagamento, noi con Salvini e Italia dei Valori, contestano il piano. De Santis, il Natale porterà doni e anche tante multe, Deramo, il PD, ha deciso di vessare i cittadini. L'avvertenza, licenziamenti alla Intex, ieri sit-in dei ricercatori, il progetto, accordo tra Eni e Rugby, un futuro per gli atleti. Ad Avezzano, Tribunale, c'è chi minaccia barricate, per il decante, gli avvocati, Leonardo Cascere, solo con una clamorosa protesta, è possibile evitare la chiusura. Mario Petrella, facciamo pressione sulla regione, per una struttura sperimentale, come prevede la legge. A Ovindoli, Canoneacqua, Monte Magnola, condannata a pagare, Castel di Sangro, scriviamo lo sport, domani la premiazione. Premiazione a Sulmona, associazioni culturali, nasce la consulta, sempre a Sulmona, a Pendolari, una mattinata da incubo, treni in forte ritardo, per un guasso, sulla linea ferroviaria, per Pescara, e ad Avezzano, Rom, tutta la verità, in un libro di Morelli. Avezzano, ancora ospedale, arriva il ministro, Lorenzin. Ed ora Chieti, la civitella tra rifiuti e degrado, già finito il sogno di rinascita, dopo la ramazzata dei volontari, il ritorno dei grandi show, con Notre Dame de Paris, il complesso è di nuovo, terra di nessuno. La mala di Natale, banda del buco, colpo da 80 mila euro, in un ingrosso di generi alimentari, rai nella notte, nel deposito commerciale teatina, pieno in vista delle feste di fine anno. In carcere per due anni, ancora scacco al Foggiano, re dei furti di auto. E poi il vertice, si ha project financing, e ospedali separati. A San Salvo, rifiuti comuni contro la stangata, i sindaci legati al consorzio Civeta, temono gli effetti dei rincari, contestato il mancato coinvolgimento, nelle scelte di Gerardini, c'è il rischio che l'impianto di Vallecena, si esaurisca a breve, mistero anche sulla possibile fusione, con la Ecolan di Lanciano. A San Vito, liquami fognari sversati nel Feltrino, il sindaco Catenaro denuncia, la Sasi torna il pericolo di inquinamento, il primo cittadino ha presentato un esposto, ieri in procura. In breve a Lanciano, dirigente comunale assolto da falso e abuso, il bilancio a rischio, ancora a Stogit, Cupello perde le royalties, e a Lanciano invece Brodui, al Fenanoli, con un cast abruzzese, la Compagnia dell'Alba apre la stagione con il musical, tutti insieme appassionatamente, Ortona, concorso di canto nel nome di Tosti, a cent'anni dalla morte del musicista, oggi a Basto invece la festa dei romeni. Pagina dedicata a Teramo, vediamo la viabilità in apertura, traffico e smog, i residenti liberate via Vinci Guerra, con i lavori sul corso, tutte le auto si sono riversate lungo la parallela, ogni giorno transitano 10.000 mezzi, raccolta di firme, salute in pericolo. E la polizia, topo d'auto alle poste, in seguito è arrestato, il caso Teramo Basket, ex vertici, prosciolti per le fatture, e vediamo ancora le cop sociali, finanziamenti in ritardo, centinaia di posti a rischio. Il terremoto invece, 10 ordinanze di sgombero, evacuata a Palazzina Ater, dichiarate inagibili le chiese di Castagneto, con le Santa Maria e Villa Turri, proteste alla Kona. Vediamo sulla costa, Giulianova, vogliamo vedere casa, e rubano tutto, coppia finge di essere interessata all'acquisto dell'abitazione, controlla tutte le stanze, e si mette a trattare con i proprietari. Poi, con la scusa del bagno, la donna va in camera da letto, oggetti in oro e denaro contante, assegno il colpo grosso. Arboretti, nuovo ospedale, potenziamo il vecchio, ha detto Tortoreto Di Matteo, si candida, ma rompe con il Partito Democratico. A Roseto, alloggi, vacanze, bed and breakfast, l'Atari è più sostenibile. Dramma della gelosia, coltellate dalla fidanzata, Scrivani dimesso, Edoardo lascia l'ospedale, la Verrigni resta dietro le sbarre. In breve, Tortoreto, truffata a nonnina di 90 anni, ed ancora nel taglio basso, Martinsicuro, ladri golosi, produttore di miele, K.O. Ed ora, passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città, abbiamo visto nella prima parte, la prima pagina, e quindi l'apertura con il Teramo Basket, quindi Antonetti nesce pulito, vediamo all'interno, la pagina dedicata alla Regione, che apre con il PD referendum, una tira l'altra, la Regione invia lettere di propaganda, il partito attacca i grillini sugli stipendi, ma dimentica che se li sono tagliati. E tetti sulla spesa sanitaria, il sisma fa rinviare la sentenza su Gianni Chiodi e Lanfranco Venturoni. Nel taglio basso Roma, gli agenti della penitenziaria manifestano per le condizioni di lavoro, dopo un incontro con i dirigenti, ottengono la promessa di 800 nuove assunzioni, anche attraverso lo scorrimento. Ed ancora, tutto archiviato, quindi Teramo Basket, Antonetti nesce pulito, niente fatture false, niente operazioni inesistenti, assieme al presidente scagionati, i collaboratori delle società satellite, il primo troncone, ricordiamo un anno fa, archiviate le posizioni di Nisi e Papili per il presunto coinvolgimento di Banca Tercas. L'iniziativa ancora a terremoto, incontro sui danni a Colle Atterrato e l'incontro ancora con il ministro Lorenzin in visita all'IZS, domani mattina a mezzogiorno a Colle Atterrato. Sotto con i lavori alla scuola Risorgimento, il comune inizia l'intervento di miglioramento antisismico, finanziato e mai avviato, ma si arriverà solo ad un indice di 0,59. Via Diaz resta irrisolto, il problema del secondo piano, tre studenti disabili in trappola in caso di evacuazione. Dopo la scossa, vediamo Delfico, incontro con i genitori sui lavori, la provincia illustra i progetti di miglioramento dell'edificio. Isola materna sporca e scuola bus in ritardo, grandi difficoltà, il primo giorno di lezione dopo il trasferimento a Cerchiaria, a complicare tutto, ci si mette anche il gelo. Guardiani annuncia, il disability manager, l'assessore al sociale, impegnata a recuperare il ritardo trentennale del comune sulle barriere architettoniche. Lo spettacolo, domani sera alle 21 al Parco della Scienza, la rappresentazione flusso di coscienza ispirata a Manolo Pelusi. Cronaca, il ladro d'auto colpisce ancora le poste, 33enne di Nepezzano di nuovo nei guai, arrestato dalla polizia. e ancora vediamo i prati puntano sulle famiglie e sugli studenti. Il gestore degli impianti di risalita, Paolo Di Furia, fiducioso sul rilancio della stazione turistica Teramana. Stagione invernale, durante la stagione invernale promozioni e pacchetti completi per le famiglie e per gli studenti universitari. E poi maltempo, 9 milioni per alluvione e nevicata, trasmesso alla protezione civile, l'elenco dei danni teramani. I contributi accolti li vediamo qui nel riquadro riportato appunto sul quotidiano della provincia di Teramo, la città. Lavoro, il comune aderisce al portale Mini Job. Oggi sarà presentata in municipio la piattaforma social per cercare e offrirsi per piccoli lavori tramite la rete. Confindustria, nessuna candidatura ufficiale per la Camera di Commercio e poi l'iniziativa in piazza la pigotta dell'Unicef diventa maggiorenne. Provincia, servizi sociali a rischio per i ritardi nei pagamenti, i comuni non riescono a liquidare i gestori, il caso emblematico della Cop 3M del Gran Sasso Laga. Saldo negativo monta circa 320 mila euro il debito accumulato dai comuni nei confronti del gestore. Referendum, Fanini riunisce Forza Italia per dire no alla riforma ed ancora vediamo ad Ascoli Piceno mogli al mare e mariti a rubare presa la banda di Catanesi in vacanza ad Alba per mettere a segno colpi nell'Ascolano era stata rinominata la banda del Subbianco colpiva soprattutto nelle Marche. Alba Adriatica gli soffia nel cellulare dalle mani mentre chiama al ferro di cavallo Martinsicuro i residenti non vogliono saperne di lasciare il palazzo di via dei Castani e l'evaso a Martinsicuro chiesto il carcere per il tunisino che minacciò il giudice Benfattun Afif e accusato di minacce nei confronti del giudice di Ascoli Piceno Ed ancora vediamo a Mociano il ponte inutile resterà tale fino al 2018 scoppia un caso per il rinvio dei lavori al Cavalcavia di Selva Piana quando si è deciso di realizzare l'opera qualcuno si è dimenticato dell'analisi tra costi e benefici verde pubblico a Giulianova già sostituite le palme malate di Piazza della Libertà ed ancora pulizia delle strade rafforzata con i tirocini formativi e anche gli sport nautici sono a misura di disabile il progetto intitolato Vele senza barriere solidarietà un milione di passi per sostenere la ricerca contro la fibrosi il giro a piedi per l'Italia di Cristian Cappello fa tappa domenica a Giulianova e Roseto rendo omaggio al pittore Luigi Celosi ieri il funerale dell'artista il ricordo del sindaco di Girolamo e della consigliera Ciancaione Roseto ancora cinema e psichiatria a Palazzo del Mare da domani al 16 dicembre l'appuntamento Roseto il comune cambia le scadenze della Tari il consiglio comunale approva anche le variazioni al bilancio di previsione le nuove rate scadono il 28 febbraio il 30 aprile il 30 giugno il 31 ottobre ed è stato dimesso dall'ospedale ed è fuori pericolo il ragazzo accoltellato dalla fidanzata poi ancora progetto Esi Silvi si conclude a Silvi il tour tra le dolcezze europee una delegazione di 12 studenti Lettoni arriverà in città lunedì prossimo cultura stile e ironia così Magris racconta la vita negli scritti raccolti in istantanee spicchi di quotidianità aprono prospettive sul mondo tra paure solitudini e luoghi comuni così la pagina dedicata alla cultura ed ora torniamo al quotidiano il centro vediamo l'edizione dedicata a Pescara abbiamo visto le prime pagine delle quattro province dedicate appunto alle quattro province vediamo all'interno qualche notizia in più sulla provincia di Pescara e magari anche Chieti e L'Aquila entriamo quindi all'interno abbiamo visto come detto la prima pagina la pagina interna dedicata all'Abruzzo si apre con la protesta che sbarca a Roma ecco le richieste carceri sovraffollate agenti abruzzesi in piazza la manifestazione della funzione pubblica CGL per i turni massacranti la carenza di organico i mezzi sono obsoleti i poliziotti rischiano di rimanere a piedi con i detenuti questa la denuncia e poi il caso Chieti il WWF diffida il comitato via non esamini il megalò 2 vediamo sul referendum nel taglio basso D'Alfonso manda lettere per il sì a Cerbo sono a spese della regione questo l'interrogativo pagina dedicata a Pescara tasse debiti e dolori conti pignorati per 250 mila euro perde la figlia che non può curare credito diva per 30 milioni di lire di 20 anni fa si trasforma in un incubo per un piccolo imprenditore mai ricevuto quelle cartelle ha detto infatti con l'avvocato ottiene la sospensione ma lei non c'è più ed ancora vediamo nel taglio alto il bilancio della colletta nei supermercati per gli indigenti 228 tonnellate di prodotti alimentari ma la crisi si fa sentire e ancora guai su guai senza lavoro deve pure risarcire il vicino a San Giovanni Teatino la drammatica storia di Mauro tre figli il mutuo il negozio chiuso per la crisi e la condanna a pagare una lite banale via libera la rottamazione delle cartelle il senato ha approvato pochi giorni fa un piano agevolato in cinque rate si paga solo il debito iniziale come scegliere attenzione ai tempi della prescrizione ed ancora anziano in bici travolto dall'auto abbiamo visto è grave l'ottantenne ricoverato in rianimazione per un trauma cranico l'uomo è stato investito da una Fiat Panda in via Tirino e queste le immagini riportate dal centro cassaforte delle armi al ferro di cavallo scatta un altro sequestro dei carabinieri e il comune punta a riqualificare il parco dell'infanzia pronti 53 mila euro per restituire ai ragazzi entro la primavera l'area verde ex covo di vandali e tossicodipendenti giornata dell'AIDS l'incontro nelle scuole parruti possibile guarire con una diagnosi precoce il direttore dell'unità di malattie infettive oggi all'istituto di Marzio Michetti 400 pazienti in cura a Pescara per HIV 6 mila i controlli e l'ex governatore imputato con altri 4 sanità tetti di spesa slitta per il sisma il processo a chiodi vediamo in breve a Tori Camuzzi congresso sui tumori gastrointestinali e l'aula magna dell'ospedale sabato convegna convegno sul trauma cranico ancora l'appello a Pescara ai bimbi autistici attendono la casa dei sogni serve l'autorizzazione regionale per ristrutturare il centro di via Ciglia che da anni è un edificio vuoto Padovano vediamo ancora rilanciamo il porto con l'aiuto di capitali privati il consigliere prospetta un project financing da 50 milioni con banche o compagnie di navigazione l'obiettivo è affidare dragaggio e manutenzione dei fondali in cambio della gestione dei servizi in via bastioni 223 mila euro per il mercato ed ancora vediamo Telecom 150 lavoratori in piazza proteste in tutto l'Abruzzo contro la disdetta del contratto il presidio si è svolto al sacro cuore Montesilvano interventi sulle grandi incompiute via Maresca e Curvone ci sono 400 mila euro per la riqualificazione il consiglio comunale approva le variazioni di bilancio soldi anche per il Palaroma e l'ascensore al cimitero e di Stefano interroga Muragno sulle convenzioni urbanistiche ed ancora l'incontro con il genio civile Tavo fino Saline nuovi studi verso il contratto di fiume come si vive in una casa famiglia convegno a città Sant'Angelo sulle esperienze al centro Colella giornata internazionale delle persone con disabilità a spoltore rimborsi per i libri di testo domande entro il 30 dicembre Francavilla il calendario delle feste gospel mercati focaracci torna alla magia del Natale tante le iniziative varate da comune commercianti associazioni cittadine si parte l'8 dicembre col villaggio artigiano chiude la Befana a domicilio e a pianella luci sull'albero da record San Giovanni teatino previsti in bilancio a 900 mila euro di multe andiamo ancora avanti vediamo la ICO non chiuderà mobilità per 74 operaia dall'anno l'accordo tra azienda e sindacati popoli le terme quest'anno non chiudono breve pausa per le feste poi l'attività continuerà per tutto il 2017 previste cure tradizionali e riabilitazione degli infortunati sul lavoro a manoppello PD e l'alternativa sui rifugiati si cavalca la paura addio Paola amica piena di sogni civitella a Casanova folla e funirali della giovane di Vestea morta in un incidente pagina dedicata a Teramo in apertura vediamo Teramo basket reati fiscali archiviata l'inchiesta su Antonetti l'ex presidente e altri due dirigenti erano accusati di aver usato e prodotto fatture false per l'IVA il giudice accoglie la richiesta del PM non ci sono i presupposti per esercitare azione penale nove stagioni in serie A con un terzo posto la storia del club gli anni d'oro bianco rossi dalla storica promozione del 2003 alla repentina scomparsa del 2012 Caffè Grandi Italia il nuovo corso parte con 30 dipendenti lo storico locale acquisito dall'imprenditore Deremigis l'asta fallimentare sarà inaugurato domani alle 18 il ministro Lorenzin allo zoo profilattico domani visita istituzionale si parlerà del progetto di un centro d'eccellenza per la sanità animale spettacolo di beneficenza sul mondo della disabilità ed ancora sabato l'inaugurazione in via d'annunzio del museo all'aperto della ceramica castellana vediamo la pagina dedicata a Chieti Asle Regione arriva la finanza blitz delle fiamme gialle per la nomina della dirigente Di Pietro dopo l'esposto del forzista Febbo attacco al turismo campo da sci distrutto da vandali in jeep passo lanciano le immagini shock diffuse dal maestro Di Francesco danni gravi all'ambiente alla vigilia della stagione Sevel persi 2300 furgoni a causa del guasto da tessa esauriti i sabati di lavoro straordinario l'azienda del Ducato chiede la cassa integrazione e l'Aquila centro storico a luci rosse casa del sesso indicata con il tricolore in via con la grande la bandiera usata per segnalare ai clienti l'appartamento del condominio indaga la polizia giudiziaria villetta al posto del vecchio casello a Onna tre sotto processo con l'accusa di truffa doppio lavoro l'asla via un'ispezione all'Aquila iniziativa del manager dopo le indagini su alcuni funzionari dell'azienda sanitaria ad Avezzano di Pangrazio si ricandida l'avvocato Cascere lo sfida a Magliano De Marsi sequestrato allevamento clandestino di cinghiali e all'Aquila la finanza sequestra abiti da lavoro non a norma ed ora sul Mona vediamo consiglio comunale sui furbetti assenteisti le punizioni affidate a una ditta esterna convenzione per esaminare le posizioni dei 46 impiegati sotto inchiesta i consiglieri Tirabassi Perrotta e Ranalli criticano l'operato degli investigatori e nasce un museo per valorizzare la figura di Ovidio nell'ex convento Santa Caterina ed ancora fermata dei bus soppressa l'assessore Vella protesta a Roccaraso la scuola dei cuochi scommette sul turismo previsti stage degli studenti dell'alberghiero nelle imprese dell'Alto Sangro in chiusura vediamo velocemente dal messaggero la pagina di Abruzzo Sport abbiamo visto nelle prime pagine di quotidiani regionali la sconfitta di ieri a Bergamo tra Atalanta e Pescara e il 3-0 quindi è il rammarico di Massimo Oddo quindi il titolo Pescara addio Coppa i biancazzurri con le seconde linee in campo sconfitti nettamente 3-0 sul campo dell'Atalanta i nerazzurri dominano e chiudono la pratica in mezz'ora contro un rivale troppo arrendevole e vediamo per i Bergamaschi anche due traverse Ghiomber in campo dopo l'infortunio ma stavolta si ferma Mitrita vediamo la furia di Oddo mi sono vergognato ora basta ha dichiarato il tecnico Lega Pro Calore Teramo vincere per avvicinare i playoff il buon debutto del giovane portiere e tra le note più positive del match perso contro la Reggiana e termina così la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 che torna domani puntuale alle ore 7 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione